Bentornati, bentornati in diretta cari amici telespettatori, come ben sapete la nostra trasmissione si è occupata con molta passione delle tematiche del bullismo e del cyberbullismo, ne abbiamo parlato più volte a dire il vero e bisogna dire che da molti anni addirittura l'attenzione dell'opinione pubblica si è concentrata sulle dinamiche del bullismo e sull'impatto del fenomeno negli anni della crescita, ma in che modo la tecnologia sta cambiando le relazioni sociali tra gli adolescenti e come i nuovi mezzi di comunicazione hanno reso certe forme di pressione, molesti o ricatto più insidiose e pericolose. Ci sono molti validissimi progetti che intendono combattere questi fenomeni, anzi è giunto a conclusione l'interessante progetto ricreazione realizzato dall'associazione Dry Art in collaborazione con l'istituto comprensivo 2 di Bologna e il contributo della fondazione del monte di Bologna Ravenna nell'ambito del bando col per la scuola. Insomma dobbiamo parlare, visto che l'attività dell'associazione Dry Art sono finalizzate ad invertire la rotta con interventi concreti ad alto valore aggiunto, dobbiamo parlarne ampiamente nel nostro programma con il dottor Massimiliano Martinez, buongiorno, buongiorno, ben trovato, che è responsabile progetti ed esperto di bullismo e cyberbullismo per Dry Art, è ancora ben ritrovato. Ci diamo del tu? Sì dai, diamoci del tu che è più semplice la comunicazione. Sì, anche perché siamo chiamati a trattare dei temi molto sensibili, quindi veniamoci incontro con un linguaggio concreto, insomma, saltando ogni preambo. Allora facciamo una premessa però doverosa. Dry Art è un'associazione che lavora in molti contesti giovanili sul tema del bullismo e del cyberbullismo. Quali sono le attività che realizzate, i vostri progetti molto interessanti? Noi realizziamo tantissime attività sul territorio e non solo legate all'extrascuola, quindi a tutta una serie di percorsi laboratoriali che partono dall'infanzia e arrivano ai socioeducativi, quindi copriamo un'ampia fascia di popolazione studentesca e ci occupiamo di varie tematiche, ci occupiamo dell'ambiente, della legalità, del bullismo e del cyberbullismo, che sono lo zoccolo duro sul quale noi stiamo lavorando da tantissimi anni, lavoriamo sulle dipendenze dei videogiochi, sulle ludopatie, abbiamo un importante progetto qui su Bologna. e quindi sono tutte queste attività che noi realizziamo che utilizzano una didattica frontale con i ragazzi, ma non solo, anche una parte creativa, noi veniamo dalle arti e quindi la parte creativa è quella più importante perché serve a far sedimentare le nozioni e ad elaborarle e rielaborarle. molto bene, io vorrei però insieme a te parlare ancora del bullismo e cyberbullismo e lo facciamo in questa chiacchierata molto attenta, sensibile e particolare, come facciamo sempre del resto. Che differenza c'è tra bullismo e cyberbullismo? Anche perché è un fenomeno insomma in continua purtroppo espansione, le tecnologie lo rendono sempre diverso e peculiare a se stesso, cosa sono questi due fenomeni e poi se ci sono dei dati anche per capire come sta andando la situazione? Allora, innanzitutto sono due discipline diciamo, molto simili, però non sono la stessa cosa, nel senso che hanno delle caratteristiche comuni, che sono le caratteristiche che ritroviamo nelle le azioni di bullismo, ci sono anche nel cyberbullismo, che sono l'intenzionalità, che è fondamentale, la reiterazione delle azioni di violenza, quindi quando parliamo di bullismo e cyberbullismo non parliamo di episodi, di azioni episodiche, ma di cose che si ripetono nel tempo e ovviamente la polarizzazione tra vittima e bullo, cioè ci deve essere una disparità di forze dove c'è chi agisce la violenza e chi la subisce, per forza di cose. La cosa caratteristica del cyberbullismo è che il mezzo definisce la reiterazione, nel senso che se io compio un'azione di violenza nei confronti di un pari, questa azione è già reiterata nel momento stesso in cui è riversata online, per esempio, perché la misura è data dalle visualizzazioni, dagli ascolti che quel contenuto ha, quindi è come, dico sempre ragazzi, quando voi avete in mano un cellulare è come avere un'arma dalla parte della lama in mano e che voi la stringete, no? E quindi rischiate di far male, a volte in maniera inconsapevole perché nel momento in cui c'è un'azione di bullismo io sono consapevole che ti sto facendo del male e sto reiterando questa violenza, nel momento in cui mi interfaccio con la rete e la rete ha queste peculiarità. Tra poco poi entreremo anche un po' più nel dettaglio di queste cose perché poi stai parlando di una cosa molto, insomma, attuale, interessante, parli di armi, tecnologia che può essere un'arma in positivo ma in negativo se usata con un'accezione sbagliata come questi due fenomeni, discipline, come hai detto tu, giusta la definizione. C'è un approccio, ecco, hai posto di larga sentenza, mi verrebbe dire, c'è un approccio corretto da adottare nelle scuole nel caso in cui si verificano questi episodi di violenza tra i giovani, come comportarsi? Come comportarsi? Innanzitutto dobbiamo dire che in Italia abbiamo una legge importantissima, la legge numero 71 del 2017 dedicata a Carolina Picchio che è questa piccola vittima, una ragazzina che nel 2014 a soli 13 anni si toglie la vita, si suicida e la sua insegnante di musica diventa senatrice della Repubblica Italiana e nel 2017 fa approvare la prima legge in Europa sul cyberbullismo, una cosa importantissima, una legge preventiva e non punitiva, quindi già questo ci dice che cosa dobbiamo fare rispetto all'approccio che dobbiamo avere, un approccio sicuramente punitivo, un approccio prescrittivo ci deve essere, ma l'approccio giusto è quello comunitario, cioè bisogna che la scuola, la comunità dove avviene un fenomeno di bullismo, di cyberbullismo soprattutto, si interroghi nel suo complesso, cioè che cosa ho fatto io, perché sono vari i ruoli che si rivestono all'interno, non c'è sempre questa polarizzazione è fittizia, perché il bullo, il cyberbullo soprattutto, esiste in virtù di una platea che lo guarda, ecco perché poi si utilizzano i mezzi tecnologici, i social, per trovare consensi e per arrivare al maggior numero di persone nel più breve tempo possibile. Ecco questa legge che tu hai citato ha definito a fronte il cyberbullismo, ecco mi sembra di capire, non vogliamo per carità polemizzare, è solo capire, se secondo te questa legge mi sembra di capire di sì, si è rivelata utile, quindi è stata utile o poi ci sono anche altre cose che andrebbero fatte? Allora, in Italia è sempre difficile riuscire a fare delle leggi che siano perfette, perché il Parlamento nei suoi due rami, nel momento in cui discute delle leggi, tende sempre ogni parte a portare o a togliere delle cose, la parte che è stata tolta e che è importante è perché il cyberbullismo e il bullismo si nutrono di discriminazioni, le discriminazioni che alimentano i pregiudizi, che alimentano la violenza, quindi è stata tolta tutta questa parte, ed è fondamentale perché io nel momento le persone più vittimizzate, le dicono le indagini Istat, la piattaforma Elisa, la piattaforma della scuola che studia proprio questi fenomeni, sono le donne, quindi è sparita di genere, le questioni di genere, le persone omosessuali, abbiamo un tasso di suicidio 3-4 volte superiore rispetto, perché poi parleremo anche di questo, se abbiamo il tempo, le persone con background migratorio, quindi stiamo parlando proprio di discriminazione, tutta questa parte è stata scremata, è stata tolta questa parte, però è restata la parte più importante, almeno per quanto ci riguarda, che è quella della didattica della scuola, la scuola è centrale, perché la scuola dà la cassetta degli attrezzi per potersi esprimere soprattutto, quindi dice che ogni scuola deve avere un referente per il cyberbullismo all'interno del corpo docente, che deve essere formato il corpo docente e poi ci sono dei protocolli, quindi questo è importante, dà un timone, una bussola, in un mare molto agitato, e dà degli strumenti ai ragazzi, che sono importantissimi, innanzitutto c'è un aspetto molto importante, che è un unicum nel nostro ordinamento giuridico, cioè che i 14 anni, le persone che abbiano compiuto già 14 anni, possono agire da sole andando dal questore denunciando, questa è una cosa importante, ma questa fa la differenza, fa la differenza, ci siamo trovati, le faccio un esempio, in una scuola superiore una ragazzina che si è messa, che mi raccontava la storia di una sua amica, che era vittima, in questo caso di sexting, il ragazzo con cui era stata la minacciava di divulgare dei contenuti, che loro si erano scambiati per un gioco erotico che nessuno giudica, e lei aveva paura di denunciarlo, ma non perché avesse paura di lui, ma perché aveva paura dei suoi genitori, una situazione di un contesto molto cattolico, e lei aveva paura, ho detto, ma tu hai 16 anni, puoi andare da sola, non c'è più questo laccio, e quindi è importante, questa è apertura nel senso pieno dei termini, questo è l'aspetto importante di questa legge, perché... Allora, a questo proposito Massimiliano, voglio valorizzare le cose salienti che stai dicendo, abbiamo un trailer, chiamiamolo così per intenderci, che un po' racconta, fa capire il vostro progetto, quello che abbiamo menzionato, e poi subito dopo ne lanciamo un altro, che è un po' vedere il punto di vista dei giovani, un po' capire su che emozioni muove queste due discipline, questo bullismo e cyberbullismo. Allora, prima guardiamo il trailer che identifica il progetto Dry Heart, prego. Metal Heart, prego. Down, game, yoga, rim, spazio, maiale, hita, 36. Sì, sono un manchaniente. Sì, sono un manchaniente. Sì, sono un manchaniente. No, mamma mia. Finalmente. Un troppo. Fostico. Il potere delle parole, quelle parole che hanno un'accezione così importante in quella fascia particolare dell'età giovanile, che assumono un peso come un macigno a volte, se dette nella maniera sbagliata. Avete fatto un qualcosa, un lavoro molto interessante. Prima però di analizzare con te magari un episodio particolare che possiamo raccontare per capire meglio, mettiamoci in queste situazioni, sempre dal punto di vista dei giovani, immergiamoci un attimo nelle dinamiche di questi fenomeni. Vediamo un altro video e poi ritorniamo a parlare. Andatevene via! 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 guarda che schigatto, non si vedi che neanche di essere qua abbiamo l'azono che reagisce con l'idrogeno allora in ogni reazione abbiamo delle sostanze che reagiscono tra di loro a parte sinistra della freccia abbiamo due angoli di azono ah ma allora è qua che ti nascoglia dici per cambiare il prezzo dici per cambiare il prezzo dici per cambiare ma ti ho messo cosa? scusa scusa non vuoi guarda che ti prendo da tutti i geni scusa scusa perché? perché? scusa 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Non è vero neanche questo E bisogna fare attenzione a non confondere mai la violenza con il conflitto Il conflitto tra gli individui è una cosa sacra Attraverso il conflitto si cresce Dico sempre ragazzi Quando i vostri genitori litigano Il giorno dopo se il litigio è avvenuto nei confini di qualcosa di civile Accettabile A volte si esagera Nessuna giudica Il rapporto si rafforza Si è vero Si cresce migliorati Il conflitto quindi serve E quindi io dico sempre attenzione a quei genitori E un bambino piccolo Quando vedevo che i genitori al primo battibecco che avevano Si buttavano con fare fantoziano per separarli Dicevano ma lasciateli litigare Devono prendere confidenza anche con il conflitto Capire dove si può arrivare Dopo interviene il genitore Mette la punizione eccetera Però devono fare esperienza di conflitto Queste ragazze Queste ragazze altrimenti non capiscono Arrivano a 16 anni che danno il primo pugno e spaccano una mandibola No ci deve essere un confine Ok E quindi il confine è labile Molto labile È molto labile Capire dove arriva Anche bisogna tener conto che c'è sempre questo elemento della reiterazione Si parla di bullismo quando E cyberbullismo quando l'azione viene reiterata Quando viene ripetuta Si Si parla anche di bullismo occasionale Ma cioè è circoscritto in un lasso di tempo Però in quel lasso di tempo io ho ripetuto l'azione Si Quindi quando si parla di questo fenomeno si parla sempre di reiterazione Il video che abbiamo visto prima Volevo soffermarvi perché quella è una delle azioni più Tranquillo Massimiliano giusto L'abbiamo visto Sì E più frequenti Cioè quella di fare una violenza fisica Riprenderla e poi buttarla nella rete Quindi utilizzare gli smartphone, i telefonini Esatto Se vuoi commentarlo Ha un nome questa azione di bullismo Che è cyberbashing o epi-slapping Bashing significa colpire Epi-slapping allegro schiaffeggio È proprio iscritta all'interno dei manuali Come una delle forme di bullismo Proprio perché è ibrida La bullismo tradizionale è cyberbullismo Che è più utilizzata tra i ragazzi E un'altra cosa Le parole sono importanti Lo dicevi tu Sono importantissime nell'altro video Noi lavoriamo tantissimo su questo concetto E lavoriamo su rafforzare delle parole chiave Che sono il desiderio rispetto alle discriminazioni Io ti discrimino perché ti desidero Ok Senti che è tutto L'empatia e l'autostima L'autostima che nel caso del bullo anche ha una grande autostima Ma non ha gli strumenti per capire che deve guardare anche all'altro All'altra Nel momento in cui io conosco queste parole le frequento Perché le parole sono come le persone Se non le frequento non le conosco quelle persone Le stesse con le parole Se io non enuncio la parola empatia Non la conoscerò mai Le parole sono fondanti Creano il mondo Senza parole noi saremmo persi Dico sempre ragazzi Se io dovessi trovare un jeans da comprare su online E non avessi il nome per definirlo quel jeans Non ho la parola pantalone Non ho la parola jeans Come faccio a trovarlo Sono perso Così la parola empatia se io non la frequento Non la conoscerò mai Ci sono degli episodi O qualche episodio particolarmente significativo Che vuoi segnalare così Qualche Adesso ci hai parlato di questi fenomeni Dettato anche dall'esperienza magari di questo progetto Qualcosa che ricordi un attimo per Sempre per capire Non rispetto a questo progetto qui Ma parlo di un'altra situazione che abbiamo vissuto Vissuto in un altro istituto che ovviamente non nomino per discrezione Di una ragazza che non poteva più uscire di casa Perché aveva avuto una relazione con un ragazzo Questo ragazzo in maniera subdola C'era anche una differenza di ceto sociale molto forte Perché contano moltissimo queste cose Leggevo proprio in questi giorni Il report dell'Istat La disparità economica Conta moltissimo come la disparità Della resa scolastica No? Sì Tutte questioni che contano moltissimo Questa ragazza che si trova Con questi video online da due anni Che circolavano nei cellulari Di gran parte dei ragazzi Delle scuole di Bologna E anche di adulti immagino Perché erano dei video molto espliciti E nessuno si era preso la briga Di denunciare questa cosa Quando l'ho saputo Ovviamente perché mi è stato dato in confidenza Da un'amica L'ho detto alla dirigente Siamo passati a tre istituti Questa storia ha coinvolto tre istituti scolastici Sì Ed è una cosa Siamo andati dalla polizia postale E la polizia postale ha alzato le mani Dice sono frequentissimi questi episodi Che poi questi episodi portano anche Letteralmente un disordine nella vita scolastica Quindi bisogna stare molto attenti Assolutamente Legato alla dispersione scolastica Tantissimo il fenomeno del cyberbullismo La non frequentazione delle scuole Dispersione scolastica altissima Che non è solo l'abbandono scolastico Ma anche l'andamento scolastico Sì, sì Porta un po' disordine E attenzione che questi fenomeni Incidono tantissimo Sul rendimento scolastico Dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze E bisogna agire subito Hai parlato dei ragazzi Che possono loro stessi difendersi È un'arma molto interessante I genitori Quando capiscono Qui andiamo più su un qualcosa Hai già capito di delicato Quando capiscono che c'è qualcosa che non va Qualche campanello d'allarme Come muoversi? Qual è l'etichetta di comportamento corretta Se c'è una norma di comportamento? Bisogna sempre valutare caso per caso Ma la cosa che bisogna tenere a mente Su cui bisogna tenere la barra dritta È quella dell'alleanza educativa Con tutti i soggetti Che si occupano della crescita Dei ragazzi e delle ragazze Quindi non solo la scuola E la scuola nella sua interezza Io mi sto battendo perché la formazione Venga fatta non solo ai docenti E che vengano fatti dei protocolli Non solo per i docenti Ma anche per esempio per i collaboratori scolastici Loro condividono tantissimo tempo con i ragazzi Però il bullismo Io per esempio sono una vittima di bullismo Quando ero ragazzo E i primi approcci Li ho avuti in parrocchia Catechismo Quindi tutti i luoghi dove i ragazzi E le ragazze sostano E dove allacciano dei rapporti sociali Quindi la palestra La parrocchia Tutti i luoghi Tutti i luoghi dove si consuma la socialità Sono importanti E c'è bisogno di questa alleanza educativa I genitori devono parlare I familiari devono parlare Con le persone Che vivono questi luoghi Che hanno delle responsabilità educative Da ex vittima Sei stato molto trasparente Ad accennare Ecco perché poi hai parlato con me Con anche una particolare commozione Perché secondo me Ci si ricorda sempre di queste cose Volevo chiederti Con sensibilità La maggiore possibile Cosa prova la vittima Quando è soggetto A questi atti di bullismo Di cyberbullismo Cosa si prova? Non per farti ritornare Ma No no ma è una cosa Possiamo condividere Qui è Di cui parlo Con una cosa di cui parlo Con i ragazzi e le ragazze Perché l'esperienza personale Serve no? Anche a Si Può servire anche a noi Serve a tutti Innanzitutto L'autostima Manca questa Questa cosa Viene distrutta E dopo Si fa fatica A recuperarla Questa autostima Negli anni Dico sempre Attenzione Perché poi le vittime Si trovano Nella difficoltà A dover riaffermare La propria In un momento poi molto delicato In cui si plasmano le personalità L'individualità delle persone Vuole uscire Con le sue peculiarità Caratteristiche Si interrompe una strada Questa interruzione Dopo si fa fatica A recuperare E La vittima Ha sempre paura Di parlare Ecco che bisogna aiutarla Dico sempre È un po' come la persona stuprata Pare che lo stupro Derivi Un po' incerta L'etimo Da stupor Che significa stupore Che dà proprio l'idea Del fatto che tu vieni Aggredito È la stessa cosa Della vittima Dico sempre Che la vittima È in una sorta di paralisi emotiva Non sa come agire Come si muove Sbaglia Ha paura Che È di una recrudescenza Dell'azione violenta Da parte del bullo Della bulla Parlo del bullo E della bulla Perché Non perché sono Politicali correct Ma perché si sta un po' Affermando moltissimo Il bullismo Anche al femminile Ah ecco Quindi per inquadrare meglio L'argomento Quindi non solo Per questione di correct Sta cambiando tutto Anche il covid Ha cambiato tutti i paradigmi Il bullismo Perché guarda che Il covid Ragioniamo io e te Si seguirà nei nostri Telespettatori Ha portato un uso Esponenziale Esponenziale Della rete Qui secondo me I ragazzi hanno fatto Man bassa Di tutte le tecnologie Ha cambiato un po' Guardi nel 2014 L'Istat fotografava Gli usi E gli abitudini Dei ragazzi Tra gli 11 e 17 anni Diceva che Il 6,7% Il 6,7% Era vittima Di cyberbullismo E di questo Uno su dieci Tentava il suicidio Stiamo parlando Il 6,7% Siamo intorno ai 65.000 Quindi 6.500 persone In Italia Che tentano il suicidio Per causa del cyberbullismo Il 6,7% Adesso siamo al 7,9% Quindi c'è stato Subito dopo il covid Perché questo dato Teneva fino al 2019 È stato fatto un aggiornamento Di quelle indagini Adesso quindi Sta aumentando Ecco Il fenomeno Ovviamente si sposta Non se ne parla mai abbastanza Gaming disorder Lo dico bene Gaming disorder Cos'è? Perché qua Scusate Viene dato Tutte le definizioni Di tutte In inglese Siamo Siamo Spiegateci che cos'è È la dipendenza Dei videogiochi È tutto quello Che deriva Dall'utilizzo smodato Dei videogiochi Noi lo facciamo Facciamo un progetto Che si chiama Game Factor Da ormai tre anni Con il dipartimento Welfare Promozione del benessere Dei comunità Del comune di Bologna Sulle scuole primarie Perché noi lavoriamo Anche su questa fascia qui E ovviamente I videogiochi Si gioca online Spesso con degli amici Mi diceva Il papà Di un amichetto Di mio figlio Dice Mi sono accorto Che sta giocando online Con altre persone Chi sono queste persone Attenzione Perché il cyberbullismo Come tutti Anche gli altri rischi La pedopornografia Eccetera Passa dalla rete Quindi bisogna monitorare Perché l'eccessivo tempo Che si dedica ai videogiochi Può causare Non solamente Cyberbullismo Ci sono altri fenomeni Come per esempio Il vamping Che è quel fenomeno Per cui i ragazzi Stanno davanti Agli schermi Nelle ore notturne Per cui È un motivo Di dispersione scolastica Perché ovviamente Al mattino Sono stanchi Non fanno più sport Non fanno più attività Fisica Passano il giorno in casa La notte Il comfort L'insensibilità Che si sviluppa Quando si è tanto tempo Davanti ai videogiochi Soprattutto quelli Sparatutto Quelli violenti Quindi si Innescano Dei meccanismi Di insensibilità Rispetto alla violenza Anche che c'è intorno Nel contesto sociale Il L'ikikomori L'isolamento sociale Sono tutti fenomeni Correlati Al gaming disorder All'eccessiva Permanenza Davanti ai videogiochi Ovviamente Anche il gioco D'azzardo patologico C'è una legge Manca una legge quadro In Italia Proprio su questo Stavamo parlando Di normare ancora meglio Per esempio In Germania Nei paesi In Olanda Adesso non ricordo In quali paesi È stata normata Questa cosa E sono stati vietati I videogiochi Con contenuti a pagamento In Italia non ancora L'utilizzo della tecnologia Non la vogliamo demonizzare È un bene Una risorsa Ma Attenzione Con quella maiuscola Che quasi È un cartello di pericolo Allora Caro Massimiliano Grazie Grazie a voi Non siamo stati Assolutamente Siamo stati esaustivi Per quanto riguarda La tua competenza Noi non lo pretendiamo Ma cerchiamo Sinceramente In altre occasioni In altre puntate Volentieri Di invitare te E altri esperti Per continuarne a parlare Questo possiamo fare Perché mi sembra Che qui l'argomento Si fa sempre più serio E la televisione Deve fare anche questo Ok Grazie mille Grazie a tutti A tutte Mi raccomando E continuate così Con l'associazione Dry Art Che avete veramente Preso una strada Molto luminosa E di aiuto per tutti Grazie Massimiliano E di aiuto per tutti